Belén Rodriguez è fidanzata? A quanto pare la show Giro argentina sta coltivando l'idea di trovare il fidanzato, ma nel frattempo bacia qualcuno di molto vicino a Lavezzi Belen Rodriguez dopo la rottura con Andrea Il Viannone, ha conosciuto altri uomini alcuni decisamente belli e attraenti La show Giro Argentina si è mostrata però poche ore fa in un video con un nuovo uomo, una persona molto vicina al foco E con lui c'è stato un piccolo ma simpatico bacio sulle labbra.Belen, e il bacio sui social Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip. Prima Stefano De Martino, poi Andrea Il Viannone, e adesso il presunto flirt con Ezequiel Avezzi, con il quale sta passando delle giornate spensierate in Argentina Poche ore fa sul web però appare il video di un bacio, ma a quanto pare, l'intimo avvicinamento non è avvenuto con la Dezzi, bensì con un altro uomo, un amico del calciatore Chi è il moro misterioso che la bacia teneramente sulle labbra? Ecco tutta la verità Il ragazzo si chiama Lucas Langelotti e pare sia un amico di Lavezzi.Ele bacio sulle labbra? Fa il giro del web Nel filmato, i due parlano in spagnolo, e tra di loro si percepisce una bellissima intesa È chiaro che c'è un bel rapporto che li lega. Lucas poi chiede a Belen quale sia stata la parte migliore della vacanza, e lei risponderebbe Una bellissima dichiarazione che si suggella con un bacio carinissimo sulle labbra Lavezzi si ingelusirà.Di domanda.Se, c'è chi pensa che si tratti solo di uno scherzo, c'è chi già festeggia per la propria amica Come si vede dalla trip la showgirl dopo un periodo molto duro sia dal punto di vista sentimentale che personale, per via del papà Gustavo, sembra abbia ritrovato il buon onore e non le auguriamo tanta felicità